Quale magia si nasconde dietro la visualizzazione? Questo strumento poderoso di cui tutti noi siamo dotati, ma che forse in pochi conoscono veramente bene. Ne vediamo insieme un esempio pratico, come noi stessi possiamo manipolare il nostro passato per cambiare il nostro presente e conseguentemente il nostro futuro. Attraverso i ricordi e la enorme possibilità che abbiamo di trasformarli da brutti ricordi in bei ricordi. Ciao a tutte le videomatrici e i videomatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di uno strumento poderoso in mano all'umanità, qualcosa di magico, qualcosa di ancestrale, una delle tecniche più antiche che ci ha permesso per secoli, forse per milioni d'anni, di salvarci, di sopravvivere, di trasmettere agli altri le principali nozioni di sopravvivenza, i pericoli, ma anche i positivi ricordi, come riuscire ad arrivare e a sopperire ai nostri principali fabbisogni quotidiani. Per fare tutto ciò abbiamo la necessità di trasformare tutto in informazioni e il principale veicolo per queste informazioni all'interno dei nostri meccanismi, quindi potremmo dire all'interno del nostro cervello, ma non è assolutamente una definizione corretta. Ciò di cui abbiamo bisogno è una visione olistica. Noi siamo tutto. Quando pensiamo, infatti, noi pensiamo alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni fisiche. Tutto crea dei cosiddetti ricordi che sono però vissuti non in quanto tali, ma in quanto esperienze e che noi andiamo a ripescare ogni volta che ci troviamo davanti a un'incertezza, a una situazione nuova o anche a una situazione vecchia. Una importante chiave di lettura in tutto ciò è la visualizzazione che, come andremo a vedere in questo video, non è strettamente legata, come dice la parola, solo alla vista, ma comprende tutti gli altri sensi e li trasforma in grandissima parte in immagini. Infatti noi, tutti, pensiamo per immagini. Partendo dalle immagini, arriviamo molto, molto in fretta alle sensazioni che hanno un posto enorme nella nostra memoria e soprattutto nella conseguente capacità di prendere delle decisioni. Dal di lì ne deriva una cosa fenomenale, quasi magica, che sono le emozioni, ma soprattutto la creazione delle emozioni. Adesso ti voglio trasportare con me in un breve viaggio attraverso un esempio pratico per farti capire ciò che intendo dire con questi tre passaggi, cioè il pensare per immagini, la creazione di una sensazione e arrivare a una emozione che crea un ricordo brutto o bello, sarai tu a deciderlo. Infatti, se io ti dico, pensa a un tavolo dentro di te, al tuo interno, certamente non visualizzerai la parola tavolo, ma penserai fisicamente e, per immagini, a un tavolo. Una cosa molto curiosa che ci possiamo chiedere è a quale tavolo penserai? Probabilmente a quello che ha legate più emozioni, più sensazioni, forse quello che hai toccato più volte, forse quello che hai trasportato, forse uno che ti lega emotivamente. Tutto ciò è totalmente personale. Quello che invece ci accomuna un po' tutti è che penseremo e visualizzeremo un tavolo. Se ti dicessi, pensa poi a un colore, nella stragrande maggioranza dei casi, il cervello per un fenomeno incredibile di associazione penserà al colore di questo tavolo. Se poi ti dicessi, pensa a un legno, ancora di più, il tuo cervello lavorando per associazioni penserebbe inevitabilmente al legno di questo tavolo. Per aumentare questo potere potrei chiederti, ad esempio, di pensare alla sua superficie. Il nostro cervello inizierà ad elaborare e a ricostruire, perché di questo si tratta in verità, non è un vero e proprio ricordo, è una ricostruzione di un ricordo. Inizierà appunto a ricostruire la sensazione che si prova quando si sfiora la superficie di un tavolo, di quel tavolo. Inizierai a sentirlo scorrere sotto le tue dita, scivolare liscio, piacevole, caldo. E questo è ciò che si può chiamare un bel ricordo. Se a questo punto io ti dicessi, e inteso come io potresti benissimo essere tu, pensa a una scheggia di legno. A questo punto il tuo cervello è davanti a una scelta, come è stato per tutte le domande che ti ho fatto. Infatti non sei stato obbligato a prendere delle decisioni, le hai prese in automatico fino adesso. Piacevoli o no? Era comunque in tua mano la scelta. E qui la mia domanda, cioè pensare a una scheggia, ti porta chiaramente verso a un tipo di risposta che partirà inevitabilmente da pensare al tavolo, al colore, al legno, alla superficie, a una scheggia infilata nel dito. Quindi la sensazione e l'emozione non sarà tanto quella del dolore che è difficilmente ripercorribile, ma sarà quella legata al non farlo mai più. Cioè se ti dicessi rifaresti questo esperimento, probabilmente il tuo cervello direbbe no. Ecco, questo è un esempio di un meccanismo in cui noi possiamo trasformare o ricreare un ricordo da positivo a negativo in funzione delle domande che ci facciamo. attraverso anche questo meccanismo di associazione di idee. E la capacità di controllare le domande e l'associazione di idee è alla base del poter trasformare brutte esperienze in belle esperienze. A causa di meccanismi ancestrali, a causa della preservazione della specie, a causa dello scongiurare di pericoli e della valutazione dei rischi, molto spesso il nostro cervello ci predispone, si predispone, a una visione pessimista. Perché la visione pessimista, come ho già detto in questo video, ci porta sempre e comunque a essere preparati al peggio. E questo non è un male. L'importante è che questa situazione mentale non ci blocchi, non ci crei dei limiti ininvalicabili, non diventi cronica. Un modo per uscirne sono le giuste domande. Lo so, molti di voi mi diranno che non è così e che tutti noi ricordiamo molto volentieri anche i più bei ricordi, più bei avvenimenti. Certamente, ma un conto è il ricordo che abbiamo e un conto è il loro potere su di noi. Tutto, infatti, dipende dalla nostra percezione ed è proprio la percezione che possiamo cambiare, creando sempre la realtà come vogliamo noi, ieri, oggi e domani. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ti invito, come sempre, a mettere un pollicione in su, a condividerlo sui tuoi social, a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e a offrirmi un caffè se vuoi sostenere il mio progetto, la qualità dei miei contenuti e il mio lavoro di informazione. Grazie a tutti voi che avete donato, grazie a tutti voi che avete visto questo video, alla prossima! Grazie a tutti!